Eccoli, però devi avvertire il capo se non mi metti nei casini, perché il caso è della mobile. Chirica, ancora questa storia? L'Udine e la mobile è la stessa cosa. Io sono un tuo superiore, non ci sta niente di male di quello che ti sto chiedendo. E se non ci sta niente di male, perché tutte queste storie? Lo so io perché. Che le guardi qua, poi me le riporto. Sì. Non te ne faccio copie. Fammi guardare. Senti, questo numero segretario è uno dei nostri. Ne vuoi ordinare? Fatevo capito, Gennaro Russo era un informatore. Non ci voglio tornare a Petralia. Ehm, Chirico, io e te oggi non ci siamo proprio visti, va bene così? Sei più tranquillo? Sì. Vai.